Molto spesso, durante le mie consulenze sulla produttività sana e potenziante, mi capita di lavorare con persone o aziende che hanno dei progetti che vorrebbero sviluppare. Tengono veramente tanto a questi progetti, agli obiettivi ad essi collegati, ma purtroppo hanno paura di iniziare, di gettarsi nella mischia e di dare il via al proprio progetto, che può essere un business online, un canale YouTube, un business offline. Ci sono diversi modi e diverse tecniche per affrontare la propria paura, che per lo più riguarda tre aspetti. La paura di non essere costanti, la paura di fallire, la paura di sprecare tempo e soldi. Messa così, sembra una montagna da scalare. E quindi ti inizi a chiedere, ma sono abbastanza forte per arrivare in cima? Come ho detto, ci sono tanti modi per affrontare la scalata. Ci sono tante tecniche avanzate e non che insegnano il mio percorso di produttività ai massimi livelli, di tre mesi. E una tra queste, tanto semplice quanto potente, è quella di suddividere questo grande task, questo grande progetto, in tanti piccoli task. E affrontarli uno dopo l'altro con costanza e determinazione. Infatti, il grande spaventa, il piccolo tranquillizza. Non è un caso che il mio percorso di tre mesi veda svolgere la prima call con i clienti sugli obiettivi. Su come si scrivono in maniera neuroscientifica e sulle azioni che bisogna fare da subito, una volta scritti. Ieri, per esempio, con Elle, una nuova cliente, abbiamo svolto la call sugli obiettivi ed è durata ben due ore. Durante la settimana, prima della call, come faccio con ogni cliente, le ho chiesto di scrivere, proprio di getto, un massimo di 14 obiettivi. Due per ogni sfera su cui andiamo a lavorare. Quindi un totale di sette sfere, di sette aree e appunto 14 obiettivi totali da raggiungere poi insieme nell'arco dei tre mesi. Arrivati in call, durante la prima mezz'ora abbiamo analizzato questi suoi obiettivi, ne abbiamo parlato. Dopodiché ho mostrato come lavora il cervello in funzione degli obiettivi, qualsiasi essi siano. Quindi di come in maniera neuroscientifica reagiamo, o meglio proagiamo, agli obiettivi che ci poniamo. Siccome spesso purtroppo si confondono i buoni propositi con gli obiettivi, una parte della call è volta a spiegare come vadano scritti. Sempre, ripeto, in base a quello che le neuroscienze ci insegnano. Ho fornito poi uno strumento che fa da via di fuga nel caso in cui non si dovessero raggiungere, per motivi terzi, questi obiettivi. O si sia impossibilitati a raggiungerli. O si raggiungano, perché no, prima della deadline che ci si era posti. Ho fatto poi un veloce riassunto delle due ore precedenti. Poi siamo passati ai compiti per la settimana successiva, perché la consulenza numero due delle tredici totali riguarda proprio la pianificazione, sia settimanale che mensile, in funzione degli obiettivi che abbiamo stilato insieme. Quindi perché va fatto tutto questo lavoro solo per scrivere bene gli obiettivi? Perché ci permettono di non avere più paura, ci permettono di agire e soprattutto di ottenere risultati all'altezza delle nostre aspettative con i nostri progetti. Anche quelli che dobbiamo ancora iniziare. Come dico sempre, un sogno, anche il più bello di tutti, senza chiarezza, diventa un incubo. Concludo quindi dicendo che però è vero che la scalata non è affatto semplice. E se per arrivare alla vetta hai bisogno di una guida, ti ricordo che ho ancora tre posti disponibili per il mio percorso di tre mesi sulla produttività personale, lavorativa, sana e potenziante. Per passare al livello successivo, contattami a questa mail. Grazie a tutti.